Un fiume inarrestabile, quello dei tifosi del Castel di Sangro Cep 1953 per le vie del capologo sangrino dopo aver conquistato i play-off di prima categoria molisana. Gioia incontenibile che ha vivacizzato la domenica pomerideana rientrando dallo stadio di Alfedena sfilando festosi con le bandiere sciarpe e fumogeni. Ritrovandosi tutti davanti al bar Serricchio, i tifosi sono stati raggiunti da tantissime persone, simpatizzanti e curiosi, unendosi nei festeggiamenti e nei brindisi inaugurali fino a tarda sera. Le vetture in transito nel vedere l'immensa nuvola giallorossa si prestavano sorridenti ai giochi inscenati dai tifosi e dai giocatori. Per certi versi questo momento festoso ha riportato indietro nel tempo qualche malinconico sportivo, ancora aggrappato ai sogni di gloria lontani ormai di oltre vent'anni. Il tempo è questo, con fotografie a colori che ritraggono i volti dei giovani ragazzi locali che, con passione e sacrifici, affrontano campionati minori per portare in giro il nome del Castel di Sangro. Stessa considerazione per i tifosi, costretti a sborsare centinaia di euro l'anno per seguire i propri beniamini. Loro, motore e pulsante dell'armata giallorossa, non hanno mai preteso nulla in cambio. La loro piccola richiesta è mostrare, sul rettangolo di gioco, l'amore e l'attaccamento a questi colori. La passione non ha categoria. Questi ragazzi, ai quali va dato il giusto merito per aver sostenuto questo risultato, hanno affrontato un campionato lungo ed estenuante, assicurando, con la loro presenza sugli spalti, un tifo caloroso ed incessante. E' per loro la pagina conclusiva di questa vittoria, loro che con i cori e con la loro passione hanno saputo portare in giro il nome del Castel di Sangro per il Molise.